Vai! C'è un grande pomeriggio, non avessi il filo con lì? Ma qui? È in reality, no? No, vai di secco. La corsa è un grande pomeriggio, non non esi. La corsa è un grande pomeriggio, non è ficate, prenda un massaggio. Ma dove? Visto, non è stato un grande pomeriggio. È iniziata con la cazzola.